Musica Ciao gentaglia, sonociuta HateU, bentornati su Breaking Italy Oggi è venerdì, il che rende il tutto un ottimo, ottimo inizio Però questo tizio ieri è stato ucciso a Parigi dalla polizia Sicuramente avete già letto la notizia Ma tuttora, a distanza di più di un giorno, non si sa bene quali fossero le motivazioni che hanno spinto l'uomo a recarsi di fronte a un commissariato di polizia Armato di coltello con un finto giubbotto esplosivo Il che rende la storia strana perché avesse avuto solo il coltello Capirei il tentativo di aggredire qualcuno senza che questo se ne accorga E ucciderlo nella testa di qualcuno che ha dei problemi Questo può essere un piano Oppure andare con una vera bomba montata addosso per farsi esplodere E tirar giù ancora più persone di quante ne tireresti giù con un solo coltello Anche quello è un piano Però quando queste due cose si mettono assieme Un coltello è una finta bomba esplosiva Era uno scherzo La cosa più plausibile a questo punto è il suicidio via poliziotto Che in Italia è una roba che non esiste È un'espressione che non esiste in italiano Ma che su internet per chi frequenta certi tipi di forum 4chan, robe di questo tipo Suicide by cop potrebbe far tornare la memoria qualcosa È in genere ciò che si consiglia perché l'internet è un luogo fantastico ai perpetuatori delle stragi nei college americani Nelle scuole americane dopo aver appunto aperto il fuoco sugli studenti Una volta che hai finito i proiettili, una volta che non c'è più niente da fare Corri incontro ai poliziotti che probabilmente Ti spareranno addosso e così eviterà il carcere Che è probabilmente una delle cose più vigliacche che si possono fare Tenendo comunque conto che in genere il terrorista è una figura abbastanza vigliacca Perché non ci vuole tanto coraggio per sparare su delle persone inermi Cambiando completamente argomento ecco un video dove palestinesi e israeliani si baciano In risposta a una recente decisione del governo israeliano Che ha deciso di bandire a quanto pare un libro Che già è qualcosa... è molto male quando qualcuno decide di bandire un libro Che parla di una relazione tra una persona da Israele e una che viene da Palestina Dico una persona e non un uomo o una donna perché nel video non si vedono soltanto copie eterosessuali Si vedono anche copie omosessuali che si baciano il che dovrebbe essere normale Premesso che comunque a me da fastidio a prescindere Due persone che si baciano a prescindere dal sesso è una di quelle robe che mi mette Non so perché una tensione addosso gigante È come quando stai guardando la tv e sei piccolino E ci sono i tuoi nella stanza e parte la scena di sesso E allora l'imbarazzo Giusto per capirci trovo meno imbarazzante questo video nel quale degli uomini gay Toccano le tette di una donna lesbica Per la prima volta toccano delle tette A quanto pare è praticamente il contrario del video che avevo mostrato l'altro giorno Fatto dalle stesse persone peraltro Che faceva vedere donne lesbiche che toccano un pene Questo non mi mette in imbarazzo Non so perché Il video del bacio sì E forse perché è una cosa più intima il bacio Tocare un pene o delle tette Alla fine non lo so Ognuno è diverso ipotizzato Non mi giudicate Sono un uomo dell'internet E visto che ci siamo e stiamo parlando di video In descrizione vi lascio anche un'altra cosa Che peraltro un video non è elencato Quindi non potete arrivarci in nessun altro modo Se non cliccando sul link È sempre qualcosa che è stato messo su YouTube Ma è un pezzo di una puntata dei Simpsons Piuttosto nuova Quindi ovviamente non ve lo mostro Perché altrimenti questo video Avrebbe le ore contate Tenendo comunque presente il fatto Che chiunque linkerà questa roba qui Scrivendo come tipo Omg i trentenni capiranno di che si parla Blink blink Amico amico E tutto il resto Quelli più giovani di voi infatti Non apprezzeranno moltissimo Anche se è l'intro di una puntata dei Simpsons Perché è ispirata agli anni 80 Ma i Amy Vice Quel tipo di mondo lì Un po' come Kung Fuori Che alcune persone Spesso dipendentemente dall'età Hanno detto Wow è fantastico E molte altre hanno detto Eh Parliamo dell'Iran Abbiamo già infatti parlato del fatto Che i rapporti di questo paese Con l'Arabia Saudita E praticamente in questo momento Con tutto il Medio Oriente Che ha deciso di isolare questo paese Sono sempre più problematici E l'Iran appena ha fatto qualcosa Che vi lascerà a bocca aperta Clicca qui Ha infatti deciso di impedire Ai suoi cittadini Di viaggiare Verso la Mecca E verso Medina Le due città sacre Per gli islamici Verso le quali È obbligatorio Per tutte le persone Che siano in grado di farlo Peregrinare Almeno una volta nella vita E a quanto pare La mossa Sembra super mega religiosa E in un certo senso Attiene alla religione Ma è principalmente Economica Ogni anno infatti Quasi un milione di persone Si sposta dall'Iran Verso l'Arabia Saudita Giusto per ricordare Che sì La religione La tradizione Sono cose super importanti Super belle Portano alla mente Tante memorie Non so di cosa sto parlando Il punto è che Sì Saltano però anche fuori Un sacco di soldi Ogni anno Relativi al turismo Anche a quello religioso In questo caso Moltissimi soldi Che l'Iran Ovviamente vuole Imperire che confluiscano Verso l'Arabia Saudita Quindi c'è anche questo Un momento nel quale Le questioni religiose Si incontrano con le questioni economiche Chi l'avrebbe mai detto Parlando invece d'altro C'è anche questa donna Giusto per citare Ancora qualcosa Che potrebbe coincidere Con questioni economiche Se non vi ricordaste Di chi stiamo parlando Questa qui è Essena O'Neill O Essina O'Neill Ancora non ho capito Come si chiama sta ragazza Nel senso l'ho capito Ma non lo so pronunciare E comunque non è così importante Perché la notorietà di questa ragazza Non è a questo punto così grande O forse è di quelle notorietà Che ti portano ad essere ricordato Come la tizia Che a un certo punto È impazzita E ha cancellato Il suo account Instagram A seguito di un lungo video Nel quale si lamentava Che l'industria di Instagram Se ha senso questa cosa L'industria del fashion blogging Mettiamola così È un'industria falsa Non le portava a felicità Il fatto di vivere Facendosi delle foto Che secondo lei Non la rappresentavano Non le piaceva l'ambiente Non le piaceva niente Quindi è impazzita Ha chiuso tutto E ha deciso di aprire Una sorta di Semi social network Un sito E comunque tanto Quel sito non esiste più Ora esiste Solo questa roba qui Che è un sito Che ci avverte Che la ragazza Sta scrivendo un libro Il che sarebbe fantastico Se soltanto non fosse Che un sacco di siti Stanno di nuovo parlando Della ragazza Perché apparentemente Sta ancora chiedendo soldi Per autofinanziare Le sue attività Dopo averne già chiesto Altri Per autofinanziare Quel sito Che adesso è scomparso Senza lasciare traccia E quindi mi sembrava Giusto il caso Di citare tutta questa roba Per tutte le persone Che per qualche ragione Sono ancora convinte Che social network Uguale vita reale Che no No nel modo più assoluto Prendete ad esempio Questo sito Che non c'entra assolutamente niente Ma volevo buttarlo dentro Che grazie a un algoritmo Decide quanto sono belle Le vostre foto Che mettete sui social Io ho provato a fare Un esperimento Io ho usato alcune foto Che sono sul mio profilo Instagram Il sito non mi ritiene Particolarmente bello Né particolarmente giovane Conseguentemente Questo sito è brutto Non andate Ve lo lascio in descrizione Ma voi non ci andate Perché è un sito che mente Giovane è bello E non credo che ci siano Dei dubbi al riguardo Ma questo è tutto Quello che avevo da dirvi per oggi Grazie per aver guardato Grazie a Karola Che è la nostra regina per oggi E Andrea Che è il nostro alfiere per oggi Apparentemente Si sono conosciuti a Singapore Non so come questo sia possibile Ma se vi foste conosciuti E incontrati Per il fatto di essere Entrambi parte della gentaglia Sarebbe fantastico Quindi è tutto Buon weekend Io sono Shuta Heizu Questo era Breaking Italy Ci vediamo lunedì Alle 18 Grazie a tutti Grazie a tutti